bella tossire in diretta allora benvenuti sul mio canale questo è un video dove spiegherò dove registro dove faccio sto la maggior parte con il computer cioè la mia terra allora di qui si va su camera mia cucina tutto di qua c'è la porta è una porta un po vecchiotta poi qui c'è la cucina che la cucina che una cucina normale è un po in disordine però fa niente qua c'è tutto un po di roba c'è tutta la mia collezione di origami che trovare un interuttore qua c'è tutta la mia collezione di origami che ne ho fatti tanti poi qua c'è il calendario qua c'è un po di roba questo è la mia candela alla lavanda che io adoro poi qualsiasi caffè che io adoro qui c'è la me il fornello con la mia personalizzazione con la mia tazza personalizzata che fa il caffè e lì c'è la mia tazza che è da lavata poi lì c'è la cosa che ho lavato per il mio gatto sotto qui c'è un po di bottiglie tanto non bevo e qui qui c'è la stufa la mia stufa che manca la cappa che però a cappa va lì che però questa qua bisogna cambiare perché perde cioè fa una fumiera cioè un po difettuosa l'acqua dentro lì c'è la can qui c'è meglio non entrava dentro perché c'è dentro la doccia lavaggio per lavastoviglie e lavatrice poi qui c'è il bagno con la mia bambi e mia bambina e questo è il taverna questa è il tavolo prossimo la c'è la mia stufa stufetta lì c'è la grande singola dalla faccia qui aumenti di mettere qualche quadro non so che cosa però quasi ci vuole una banda super topo il mio borsello piccolo borsello che ho poi diciamo un origamo il tre comando la mia tv che adesso per ora è qui che dopo la prenderò da qualche parte forse la metterò lì però non mi ispira quella in fondo la mia vecchia macchia intercomandata anni storica qui c'è la mia fedele mio tesoro il padrone di casa senza nomi ciao senza nomi la mia finestra sarà computer sarà computer con su una stampante ma in fondo c'è la mia tubo lì c'è anche la mia luce qui c'è la sedia che avevo le contate che cosa si già sparerà qui c'è un fantasco divano che è incasinato per caso trova sporca mi lascia stare però è comodissimo che tornerci questo qui era un vecchio porta cose che io l'ho trasformato in allora questo era un vecchio quadro che l'ho tolto kangaroo matanguru kangaroo non ha un nome sparticolari che ha un miccia e poi il pesce che questo pesce lo uso per pulire il monitor che è apposta per però una particolarità che ho attaccato con sul amo qui ci sono un po di fogli 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 e si sono un po di libri di origami però non sono miei qua c'è tutto c'è dentro bottigliette pur di tutto non ti apro qua perché c'è dentro di tutto c'è dentro un bordello la mia lungo skate che è un po vecchiotto è un po vecchiotto ma funziona ma funziona bene anche qui c'è un muro vuoto che aumenti di mettere qualcosa perché poi c'erano due quadri ma mi sono rotti mi sono caduti mi sono rotti quindi devo cambiare il vetro che però forse mi cambierò forse cambierò soggetto pensiamo che tutto si è questa che la metà verna vengo ogni sera sempre qua con le condute se ho fame mangio se ho seduto e bevo basta questa è la metà verna alla prossima chiudiamo così